Sindaco, dopo diversi giorni di confusione la crisi è arrivata alla conclusione? Sì, diciamo che sono stati giorni particolari, ma giorni che ci hanno consentito di lavorare con un gruppo di persone responsabili, che è il gruppo in alto volare, la dottoressa Tucci, il dottore De Cari e tutto il gruppo. Abbiamo avuto modo in questi giorni di confrontarci e di pensare al bene della città. Da qui nascono dei punti programmatici, che tra poco presenteremo anche alla stampa, che ci hanno spinto di proseguire questo percorso amministrativo nell'interesse esclusivo dei cittadini e dell'interesse esclusivo del nostro Paese. Un percorso che ci vedrà protagonista, ognuno con le proprie posizioni politiche, ma un percorso che ha visto in campo due schieramenti civici, ovvero i consiglieri eletti col Movimento La Serra Rinasce e i consiglieri eletti con la lista in alto volare. Siete subito operativi? Avete già fatto una saluta di giunta? Sì, questa mattina appena nominata la giunta abbiamo deciso di posticipare la conferenza stampa e di metterci subito al lavoro. Il primo atto che abbiamo voluto fare, un atto significativo, è stato quello di prolungare il contratto ai lavoratori socialmente utili, che a Serra San Bruno contano 55 unità, quindi 55 famiglie che aspettavano con ansia questo prolungamento del contratto di lavoro. Sono le primissime battute di questa nuova esperienza amministrativa. Qual è stato il primo impatto? Ma un impatto è certamente positivo perché quando si ragiona con persone responsabili, con persone con le quali al di là della differenza del colore politico, però si trova un'unità di intenti sui temi principali, ovvero sul proseguo del lavoro di stacco da Sorical, sulla necessità di lavorare per riscattare questo territorio, quando si parla di cose concrete si va al di là dei colori politici e quindi tra persone responsabili ci si capisce. Quindi un approccio molto positivo sin dal primo minuto. Momento difficile e cruciale anche per in alto volare. Come siete arrivati a questa conclusione? Dunque per in alto volare il momento è stato particolarmente difficile perché fin da subito, dal momento in cui abbiamo compreso effettivamente cosa fosse accaduto, che si trattava di una crisi meramente e prettamente amministrativa, ci siamo sentiti moralmente coinvolti, abbiamo sentito pressante la necessità di intervenire in favore di una collettività, di una comunità che in questi anni di certo ha subito notevoli rallentamenti dal punto di vista sociale, economico e quant'altro. Quindi ci siamo resi conto che il nostro intervento poteva e può contribuire ad accelerare l'azione amministrativa. Per quanto mi riguarda ho capito subito che in qualche modo, io che fino all'altro giorno rappresentavo l'unico membro dell'opposizione del gruppo in alto volare, e diciamo da tra l'altro soggetto civico, quale sono perché non ho alcuna appartenenza di tipo politico, ho sentito fortemente questa responsabilità. Per quanto mi riguarda si è trattato di un'azione di puro civismo, naturalmente condivisa, discussa, fortemente discussa e anche sofferta con gli altri membri del gruppo. Su quali basi che mi sembrano programmatiche e non politiche è nato questo accordo? Allora l'accordo assolutamente non è un accordo che abbia natura politica, l'accordo è meramente di tipo programmatico, è sui programmi che ci siamo confrontati e abbiamo assieme discusso quali fossero i punti necessari da condividere, i punti di programma da raggiungere per il bene della collettività. Il nostro ingresso ha l'unico significato per l'appunto di accelerare questa azione amministrativa. Quindi col nostro ingresso noi quello che intendiamo fare è soltanto imprimere un'accelerazione affinché il nostro territorio possa via via ritrovare una situazione favorevole allo sviluppo economico, sociale e basso.